La nostra associazione è nata circa quattro anni fa e da una grande esigenza. Io abitando a Terni mi erano arrivati dei piccoli quesiti, magari anche da amici e parenti, poi io sono una tipa che controllo magari in rete, le cose che non so, però magari c'era il vicino di casa, la zia anziana, dice ma sai ma questo doveva buttato, quest'altro doveva buttato. E a quel punto ho detto bene, vado a vedere in rete la nostra municipalizzata, che cosa mette a disposizione dei cittadini, come fare la raccolta differenziata. A quel punto ho notato che c'era un grandissimo buco a livello di comunicazione. Ho detto bene, allora faccio, siccome che sono un ambientalista da quando ero piccolina, ho detto ok, apro un portale ecologico. Un portale ecologico che porta informazioni appunto principalmente sulla raccolta differenziata, che poi magari puoi spaziare in altro. E da lì sono partita con la prima domanda come associazione, ci siamo focalizzati sul fatto del tetrapack, quindi dove si buttava questo oggetto misterioso. E da lì siamo partiti con la nostra prima campagna sul territorio di come si differenzia un materiale. Fatto questo, comunque noi siamo partiti con una serie di iniziative sul territorio. Abbiamo iniziato a valutare anche il discorso dei pannolini lavabili, per esempio per i bambini. Quindi abbiamo, insieme al comune di Terni, che ha messo soltanto il timbro, e noi tutto il resto, come associazione di volontariato, siamo partiti e con dei soldi che sono arrivati al nostro comune con le cartoniadi, siamo riusciti a farci ritagliare una piccola fetta di questo premio e l'abbiamo dato direttamente ai cittadini. In che senso? Abbiamo dato degli incentivi, a messa a disposizione i cittadini degli incentivi per chi volesse utilizzare come famiglia i pannolini lavabili nella propria appunto minaccia di casa. Quindi eliminando il pannolino, quello tradizionale che assolutamente qui ne ha da morire, che è un solo bambino, piccolissimo che sia, crea una tonnellata di rifiuti indifferenziati che vanno o in discarica o nel... e quindi fate due conti quanto può essere magari anche in una sola e singola città praticamente tutti questi bambini quanto possono inquinare. È una cosa stupida, però noi siamo andati un po' a colpire quello perché era una delle cose corpose in città, insomma, che inquinassero. Quindi quella è stata la nostra prima battaglia, insomma, per la riduzione. Poi dopo siamo partiti con il discorso dei retini nell'ortofrutta. A livello nazionale c'è stata la questione della riduzione della plastica nei supermercati. Quindi adesso noi se andiamo nei supermercati abbiamo la... la bustina e Mater B oppure ci portiamo da casa a noi, è riutilizzabile, cosa che già faceva nostra nonna anzitempo. Un'altra cosa che invece al momento adesso stiamo portando avanti è la legacciola, insieme allo slow food. E questa è praticamente un po' in memoria della... la legacciola era praticamente il fazzolettone che il contadino andava nei campi e si portava le cosine da mangiare. In questo caso noi abbiamo voluto dare nei ristoranti, visto che quest'anno la settimana europea della riduzione dei rifiuti è incentrata proprio sull'antisprego del cibo, abbiamo... siamo andati nei ristoranti e abbiamo portato del materiale, praticamente gratuitamente, perché per fortuna abbiamo vinto con questo progetto un concorso e quindi appunto siamo riusciti a prendere qualche soldino. Con questo portiamo questi cartoncini da inserire dentro ai menu, di modo che il cliente che arriva praticamente dopo che magari ha visto sull'ingresso anche questo che è l'adesivo da mettere alla porta e legge e praticamente è una cosa carina perché il ristorante aderisce a un antisprego, significa che io vado a mangiare, mi avanza qualcosa, invece di essere timido oppure di oddio mio faccio una figuraccia se mi porto via qualcosa da mangiare, invece in realtà quello che mi ha avanzato ben venga, ho anche lo stimolo in più per chiederlo. Infatti noi diamo in dotazione al ristorante questi semplici contenitori, che di solito magari il ristorante ha il suo, non so, in alluminio eccetera, noi diamo questi contenitori che sono in cartone esterno, in materbi interno per non far sporcare il cartone e gli abbiamo dato anche questa fornitura gratuita ai ristoranti di modo che appunto è tutto un circolo virtuoso per eliminare lo sprego che è nella tavola e che purtroppo anche lì alla legge dei grandi numeri è tantissimo. Grazie a tutti!